Vedete là sotto che c'è una cesta e c'è anche un command block? È perché tecnicamente ci dovrebbe trasportare su questo pianeta dove c'è Orange Perché praticamente facciamo di pianeta in pianeta e sono tipo dei livelli Adesso dobbiamo scendere e andare al prossimo livello Però qua c'è una cassa per permetterci di fare altro Che purtroppo vedo che non è una spada Il che ci sarebbe stato molto utile Però aiaiaiaiai fa molto male lui eh Fa molto male Dico guarda perché per fortuna allora per fortuna aveva solo tre cuori Però noi dobbiamo muoverci sapete perché? Perché sto qua adesso rispauna perché sti qua rispaunono sempre da me Questo è il problemino mio Però sapete cosa posso fare? Yeh olè E direi di prendermi un po' di pietra così almeno posso Nel caso mi serva la utilizzerò ovviamente Adesso cerchiamo un attimo eccolo qua Il signor command block Ehm ho paura di premere Effettivamente chissà cosa potrebbe succedere E potrebbe succedere che Green mi toglie Ehi ehi no 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 Raga ehi Santa Maria No 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 Prima che respawni Prima che respawni Prima che respawni Ok perfetto Ho notato una piccola cosa Purtroppo io non ho il cibo Tuttavia Siamo in difficoltà peaceful Pacifica Questo vuol dire che io non devo mangiare E recupero vita E adesso andiamo all'ultimo pianeta Il più difficile tecnicamente E già stavo morendo con questi qua Ok pronti Via Ok qua sopra non c'è niente vedo E vedete gli altri Sono tutti quelli là Ci sta Vediamo un attimo cosa Oh mio dio questo pianeta vuoto Cavo E no però Allora direi di scendere da questa parte Aha E raga direi di utilizzare l'ascensore Scendere Non posso Non posso Perché non posso Perché non posso Perché non posso Non ho ancora vinto Quindi Ok Allora facciamo così Attiriamola da una parte E poi dopo io prendo la cesta Perché vedo che Io sono una cesta Secondo me la cesta Può aiutarmi effettivamente Via 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 Buono Buono Ai 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 Mangia Via 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 Raga Paurosissimo Mannaggia a te Brutto Schifoso Ma che cavolo Mi sa che non si toglie il blocco Praticamente Il blocco Perché io non posso scendere raga se vedete Perché c'è un blocco qua E secondo me non si toglie fin quando io non l'uccido Sto qua e quindi non ho vinto Fin quando non ho ucciso però Ucciso infatti si è tolto Perfetto addio ciao Ho finito iscrivetevi nei commenti se volete vedere Altri di questi video con i pianeti volanti E i livelli Iscrivetevi al canale lasciate like e ci vediamo Al prossimo video Ciao